Non so voi ragazzi, ma io temevo questa partita già dal momento che ho letto sui vari social i post classici del tipo Cremonese, Empoli, Lecce, Pizzighettone, 12 punti su 12 obbligatori. Quando io leggo queste cose dico, ecco, è la volta buona che tu 12 punti su 12 non li farai mai, perché il calcio è così. Non è che puoi essere sicuro che andando a giocare con una squadra meno forte tecnicamente vince al 100%. Possono capitare partite bloccate come queste, in cui trovi un portiere che ha parato letteralmente di tutto, e ci mancava anche che parasse rigore, e un arbitro diciamo mediocre. Allora, non voglio usare termini pesanti perché parliamo comunque di calcio, non bisogna esagerare nel analizzare determinate cose. Bisogna sempre cercare di limitarci un po', ma Aureliano penso sia tranquillamente uno dei portieri, sì, buonanotte, uno degli arbitri più mediocre o comunque uno dei peggiori in Italia. L'ultima volta che ci aveva arbitrato, lo ricorderete tutti, Venezia-Roma 3-2, un rigore clamoroso dato al Venezia su un fallo prima di Bagnez, e poi concedendo il contatto di Cristante che non aveva fatto praticamente niente, e anche oggi non si è risparmiato. Non fraintendete il mio discorso, non voglio far passare questa recensione come un è colpa solo dell'arbitro se non abbiamo vinto, ci mancherebbe altro. Vanno fatti complimenti a Lecce, vanno fatte anche qualche critiche ai nostri giocatori, però è evidente che è stato un arbitraggio veramente pessimo. Mi sbrigo alla veloce gli episodi più clamorosi, a parer mio c'era un'espulsione nettissima su strefezza dopo pochi minuti della ripresa, già ammonito, fa un fallo da dietro inspiegabile, non capisco perché non gliel'abbia voluto dare. Oppure anche un rosso diretto a Juhlman, che è vero, fa un fallo che magari non avrebbe permesso la Roma di segnare perché c'erano diversi giocatori, ma blocca una ripartenza al 91esimo entrando diretto da dietro sulle gambe di Dybala. Secondo me gli estremi per dare un secondo gioco, o comunque l'espulsione diretta c'erano tutti. In generale parecchie scelte non mi sono piaciute, un fallo dato alla Roma mi pare su Ebram che praticamente non aveva fatto nulla, gestione completamente insufficiente. Ma, come ho detto all'inizio, non voglio far passare il messaggio che hai pareggiato, stavo per dire perso perché comunque a livello di classifica ci fai veramente poco, questa partita. Il Lecce è una squadra difficile, è una squadra rognosa, è una squadra, perdonatemi il termine, bastarda, ma non nel senso che non giocano a calcio, che sono dei falegnami, però è una squadra difficile da affrontare perché ti pressa tanto, e chiaramente i nostri difensori vanno spesso in difficoltà quando trovano avversari che gli impediscono di costruire gioco, e sono un po' dappertutto. È vero che a livello puramente offensivo ti hanno fatto un gol su una delle poche occasioni veramente create verso la porta di Rui Patricio, però è comunque una squadra difficile soprattutto da affrontare in mezzo al campo, come vi ho detto, perché con Umtiti e Baschirotto, soprattutto considerando il loro momento di forma, e Juhlman lì davanti alla difesa a coprire, abbiamo avuto veramente difficoltà a costruire vere e proprie trame di gioco, e nonostante ciò, se avessimo segnato due o tre gol, penso che non avremmo rubato niente. Perché, come ho detto all'inizio, bisogna sottolineare le grandi parate di Falcone. A questo punto io direi di fare come con Sobacca, cioè per ripicca lo acquisti il prossimo anno solamente per non avercelo contro e dover sempre imprecare di fronte alle sue parate, visto che contro di lui non abbiamo praticamente quasi mai vinto. Ricordo l'1-1 l'anno scorso con la Samp e anche quest'anno 1-1 contro il Lecce. Almeno tre parate clamorose, una su Ebram, un'altra su un colpo di testa, comunque in generale è stato veramente, veramente formidabile e indubbiamente quando tu ti incontri i portieri di questo tipo è anche difficile portare il risultato a casa, ma non lo dico per, non lo so, trovare una giustificazione anche in questo caso, cioè il portiere sta lì per parare. Gli altri parano, il nostro magari un po' meno, perché non me ne voglia chiaramente chi pensa che il Lecce abbia fatto un bel gol, per l'amor di Dio. Però lì ci sono diversi errori che vanno considerati. Uno fra tutti l'intervento un po' così così di Rui Patrizio sul tiro precedente di Gallo, mi pare, che ha fatto un bel tiro per carità, però era comunque centrale, si poteva in qualche modo bloccare. Invece l'ha mandata in angolo perché non riusciva a tenerla ferma e da di lì poi è arrivato il gol. Lì stranamente la difesa, che di solito comunque sui calci piazzati è sempre molto attenta, si è fatta prendere in controtempo dal colpo di testa di Baschirotto, lì Bagnez un po' male, tra l'altro poi anche su autogol, meno male che non ce l'ho al fantagalcio, e la partita è iniziata subito male. Già lì ho visto comunque che c'erano i presupposti per poter imprecare fino alla fine. Poi in qualche modo si è riuscito a pareggiarla, rigore solare per tocco di mano di Strefezzi in aria, Di Bala segna come all'andata, questa volta per fortuna non facendosi male, non facendola, tirando la conclusione. E poi è stata una partita molto molto spezzettata, una partita piena di falli, ma secondo me ne sono stati segnalati almeno la metà, altri netti non sono stati segnalati, o comunque come vi ho detto non sono stati conclusi da una scelta adeguata del direttore di gara. E il secondo tempo è stato così, un secondo tempo molto complicato, in cui la Roma ha provato anche a cercare qualcosa, con alcuni tiri c'è stata un'occasione clamorosa sui piedi di Pellegrini, che mi dispiace, ma anche oggi bisogna criticare, perché se nel primo tempo ha fatto un'ottima prestazione, per me è stato uno dei migliori, e leggevo sui social tante critiche nei suoi confronti, secondo me ingiuste perché ormai va di moda criticare Pellegrini, nel secondo tempo è calato terribilmente. E quell'occasione sprecata è stata soltanto l'emblema comunque di una ripresa un po' negativa, cioè un'occasione d'oro con una palla incredibile messa da Di Bala sui tuoi piedi, o la passa del Sharawi che era solo soletto, o tiri ma fai un tiro migliore. Quindi ecco, Pellegrini è calato molto e mi dispiace perché poteva, concludendo bene questa partita, riscattarsi un po' delle critiche che ogni volta una parte della tifoseria gli concede, secondo me, in parte anche ingiustamente. Di Bala segna il rigore ed è uno di quelli che inventa qualcosa lì davanti, e poi arriviamo agli ultimi minuti. Qua ci sono due cose da considerare, da analizzare soprattutto. Prima cosa, il ritorno in campo di Guainaldum. Sono contentissimo che l'olandese sia entrato in campo gli ultimi minuti, non mi aspettavo che Mourinho lo facesse entrare, perché comunque è stata una partita molto fisica e problematica sotto questo punto di vista. Far tornare uno che è di rientro da un infortunio dopo cinque mesi poteva essere un rischio. Il giocatore ha fatto qualche buon passaggio, chiaramente non è in forma e lo sappiamo, però è importante pensare almeno di avere delle alternative lì in mezzo al campo. Dico questo perché, ancora una volta, non ho capito appieno i cambi di Mourinho. Passiamo, innanzitutto, al discorso di Ebram. Io sapevo e pensavo che Belotti sarebbe entrato, anche solo dieci minuti. Però non pensavo che avrebbe tolto Ebram facendo praticamente un cambio ruolo per ruolo. Cioè, è vero che era un pochino stanco, per carità, giovedì poi hai un altro impegno, si vede che magari Mourinho ci punta, cioè Mourinho vuole che la Roma non sottovaluti il discorso Europa League. Però, se l'hai fatto giocare 80 minuti, cioè nel senso, o lo fai giocare 90 minuti o lo fai uscire qualche minuto prima. E' entrato Belotti, come ho detto è entrato Wijnaldum ed è entrato anche Solbaken. Solbaken, che poverino, non è che voglio criticarlo per mezzo errore, per carità, però ha fatto un retropassaggio senza senso che ha fatto ripartire Lecce in un momento in cui dovevi essere tu ad attaccare in profondità. È evidente che giocare solo 5 minuti a botta non è facile, però quando entri in campo te lo devi un pochino mangiare. Quindi io credo che il norvegese deve un po' entrare nell'ottica di saper sfruttare, di voler sfruttare, soprattutto i minuti che Mourinho ti concede. Detto ciò, è chiaro che sono stati dei cambi un po' strani. A un certo punto avevo paura pure che entrasse Tahirovic con tutto il bene per il ragazzo, ma sarebbe stata una follia. Diciamo che come nomi ci potevano stare, ma sono arrivati tardivi e secondo me si poteva pensare maggiormente ad un discorso di cambio modulo, come hanno sottolineato anche i telecronisti. Capisco che magari come alternativa avevi messo la squadra migliore che potevi mettere in questo momento, con Matic, Di Bala, Pellegrini, Ebram, la difesa titolare. Non è che sono stati fatti dei cambi, anzi rispetto all'Empoli hanno giocato sempre gli stessi. Però proprio per questo motivo, nella ripresa magari se vedi qualcuno che è stanco, prova a fargli prima i cambi. Capisco che Mourinho magari ha confermato ancora una volta di avere poca fiducia nelle riserve, però ecco, con questo non voglio dire che è colpa solo sua se non hai vinto, però è stato un aspetto che mi ha lasciato un po' così. Tutto qui. Comunque, punto perso, punto... Un punto perso, anzi un punto guadagnato e due punti persi. Stavo un po' per confondere il discorso. Per me quando non vinci queste partite sono sempre due punti persi. Però, se andiamo a vedere il lato positivo, stasera ci sarà lo scontro diretto, male che va, una tra Lazio e Atalanta ci supera oppure pareggiano e si fermano entrambe, in ogni caso tu resti lì in lotta per la Champions e sei comunque tra le prime quattro, indipendentemente da come finiranno le altre partite. Certo, magari se l'Inter si dovesse fermare hai ancora una possibilità per il secondo posto, però credo che ormai i nerazzurri e il Napoli siano ben indirizzati sulle loro obiettive, sulle loro posizioni. Quindi io credo che dal terzo al quarto posto la Roma debba in qualche modo riuscire ad allungare un po' rispetto alle altre. Perché è comunque difficile. Non abbiamo tanto di più rispetto alle altre, però credo che l'obiettivo della Roma dopo essere uscita dalla Coppa Italia sia rendere la qualificazione Champions quantomeno il più tranquilla possibile. Ripeto, non sarà semplice, soprattutto se tutte le squadre giocheranno come ha giocato il Lecce oggi. E se magari ti trovi ogni volta a un portiere Superman. Con l'Empoli per fortuna non è bastato, ma oggi è stato sicuramente decisivo. Però dobbiamo fare assolutamente il possibile perché dalla qualificazione Champions gira tutto il futuro della Roma. Non lo dico esagerando, ma veramente può cambiare il destino dei giocatori, dell'allenatore e in generale del progetto Roma. Un saluto a tutti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa partita. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se volete lasciare un mi piace per supportarmi, è gratuito, quindi sarò sicuramente molto contento. E se volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social, vi lascio i link, come sempre, qua sotto in descrizione. Buona serata a tutti, per quanto una serata in cui la Roma non ha vinto fa sempre rosicare, magari ci distraiamo un pochino con la finale di Sanremo e ci vediamo domani per le pagelle di Lecce-Roma 1 a 1. Ciao ragazzi, e sempre Forza Roma!